buonasera buonasera e bentornati qui sul canale di pg esports al vostro fangelo eyes e mia compagnia come sempre il barbuto karen pronti qui ad accompagnarvi al secondo match della best of three dell'amazon university esports la cosa divertente tu mi chiami barbuto karen ma effettivamente con il setup da casa la gente non sa dove inizia la barba e dove c'è dove finisce karen e dove inizia la barba perché dato che il il mio armadio ha in mente tipo gli armadi quelli dei cartoni animati dove hanno per 10 di ogni singola maglietta esatto 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 il mio armadio è monocromatico di conseguenza con il setup da casa che non ha un'illuminazione diretta sul mio petto guadagno due cose intanto sembra che io abbia 20 kg meno di quelli che ho e quindi ringrazio il setup da casa per questo e secondo la mia barba è virtualmente infinita che finisce qui giù che comunque però virtualmente infinita potrei essere vestito unicamente della mia barba e nessuno lo saprebbe detta questa immagine raccapricciante che abbiamo ora instillato negli occhi della nostra community signori siamo alla seconda partita della serie al meglio delle tre che vede protagonisti politonno e albicocca con il politonno che conduce le danze con un convincentissimo 1 a 0 e che è 1 a 0 è stato allora non riprendo la memoria si è stato devastante questo questo 1 a 0 anche abbastanza veloce non forse così veloce avendo comunque personaggi come kiana elise che potevano oltremodo spingere l'acceleratore bilanciati comunque da un orde da un ezra con un trash hanno comunque voluto fare le cose con calma tutto con calma tra virgolette contestualizziamo che comunque avevano ciccato male un'azione sulla corsia inferiore e questo li ha portati a rallentare molto sulla transizione di risorse tra la corsia superiore ed inferiore e quindi non è tanto il kiana non ha fatto transitare risorse ma c'erano meno risorse da far transitare nelle fasi iniziali quindi non ci aspettiamo un ritmo più blando nella prossima partita il politonno comunque ha assaggiato il terreno si è reso conto che anche sbagliando una singola azione inizio partita è facile per loro recuperare quindi immagino questo team osare nel prossimo game e non mi dispiacerebbe abbiamo inoltre promesso al nostro pubblico di continuare a costellare questa serie con diversi momenti caster chef dove spieghiamo quale siano i modi più opportuni per cucinare il tonno insieme alle albicocche ma questi come sempre li inseriremo all'interno della partita in modo da essere man mano che avremo modo più seri esatto così abbiamo anche delle immagini su schermo su cui ovviamente rappresentare però sì hai parlato di osare da parte del politonno io vorrei invece che usassero anche il team degli albicocca questo perché sei contro un team come il politonno e bannare qualcosa a questo punto è irrilevante quasi giocati le tue carte al meglio che puoi andiamolo a vedere questo è il massimo andiamo a vedere per l'appunto eccoci qui con nessuno swap decide quindi di nuovo albicocca lato blu e politonno dal lato rosso rimossa yumi ma stavolta decidono di non voler impostare su quel campione rimosso mordekaiser mentre ci sono da di lato politonno ok un buong e una vita al lato del politonno questo non vuol dire esattamente preso cioè non fa presumere nulla da parte le loro volontà un possibile counter pick che vi poteva andare a appunto ad attuare o limitare nulla di questo ma ripeto da parte del politonno anche io mi aspetto che possano usare sanno hanno saggiato come giustamente stai dicendo hanno saggiato anche fin dove possono sbagliare e questo potrebbe tranquillamente tramutare il loro draft in qualcosa di folle dall'albicocca io spero che giochino invece proprio qualcosa che sia puramente nelle loro corde che dino anche un minimo di vantaggio e favore perché qualche teamfight la sinergia c'è comunque l'albicocca il loro piano di gioco si è intravisto in quell'ultimo teamfight gestito tra l'altro alla perfezione ma mancavano tutti i 25 minuti precedenti esattamente vedremo come si orienterà adesso questa draft che comunque vede wukong bannato e albicocca non può far affidamento su quel campione il first pick va nuovamente su set questo set ricordiamo è stato gestito molto bene da parte di un orno che addirittura ha trovato un uccisione in solitaria durante la fase di corsia vorrei vedere set adattarsi meglio tarik kalista dai tarik kalista potrebbe essere una bella risposta set potrebbe essere un'ottima risposta e mi aspetto infatti che venga subito selezionato magari addirittura direttamente la la bottom lane del politonno andare a selezionare avendo tolta immaginavo avendo tolto misfortune mi immaginavo che politonno potessero scegliere verso un duo bot immediatamente così da fugare e costringere magari anche l'albicocca scegliere una di carri per non trovarsi poi in seconda fase di ban a vedere se li rimuovere uno dopo l'altro potrebbero sempre cambiare il politonno questo è vero però sempre mantenere quella pick un po all'ultimo staremo a vedere o tarik vein grossissimi grossi 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 sì perché comunque partendo dal presupposto che quella vein sia in corsia inferiore cosa non sicura perché comunque abbiamo visto già delle composizioni con tarik al proprio interno vedere vein in corsia centrale e vincere comunque abbiamo tarik vein una combinazione micidiale la capriola di vein può tranquillamente riposizionare lo sbrilluccichio di tarik andare così a stordire gli avversari arrivano sindra ed ecco danno priorità a due campioni che erano stati gestiti in fase di draft precedentemente ecco era stato bannato e quindi da parte di absolute vi abbiamo ecco in giungla over su tarik dall'altro lato se dovessero fare una po su tarik su ivern arriva l'uomo e quello è un ivern arriva l'uomo foresta per le maxinian e abbiamo una protect the vein comp ragazzi più che altro è divertente vedere anche il parallelismo utilizzando prima la regina ragno elisa dell'isola ombra così aggressiva così famelica una una tarata allo tutti effetti dall'altro lato adesso abbiamo ivern che per nome ha il barba papà della giungla è esattamente tutto ciò che è contrario all'aggressione seppur ivern una volta era un pazzo maniaco omicida vero la sua lore descrive ivern come un pazzo omicida re maligno che non faceva altro che sterminare popoli per il gusto di farlo che poi si imbatté in una foresta incantata iniziò a distruggere la foresta per il puro gusto di farlo perché lui era super edgy tipo tipo quelli che preferiscono sasuke a naruto tipo quelli che bannano a felios esatto e la foresta l'ha punito con una maledizione che l'ha trasformato in un misto tra un cipresso e bob rossa quindi è una storia molto divertente quella di ivern però insegna molto bene il fatto che non devi bannare a felios e non devi preferire sasuke a naruto questo è palesemente il messaggio nella storia di ivern che ne trasuna posso immaginare bannata karma particolare molto particolare sì perché se stai giocando una protect the vein io mi sarei aspettato addirittura qualcosa come una karma top che comunque gioca bene contro set può continuare a rassarlo dalla distanza può continuare a pulire le ondate impedendo a set di trovare priorità e karma contro set trattandosi di un match up fisico può anche andare per una build più resistente che tanto agognavi nella giornata di oggi ma che non ti è stata donata e abbiamo catarina di nuovo bannata a quanto pare per cat one winged cat non ci sarà possibilità ma dai gianna top gianna top wonder style la voglio vedere perché no potrebbe essere anche mid gianna taric in corsia inferiore e vain mid ma sarà sona sona taric ragazzi wow wow mio dio e questo però attenzione perché a questo punto vain può parato solamente andare nelle mani sia di heavily yasha così come anche di one winged cat ok questo è è grosso è cosa che non vedevamo da tanto tempo abbiamo sona taric di fianco a vain di fianco ad ivern quindi il piano del poi ritorno e farci divertire parliamoci chiaro questo è un team che vuole divertire voglio proprio aprire una parentesi perché parla per te io mi sono subito io mi sono no oddio questo sarebbe ancora singed già alla fine sarà già alla top per forza dai 10 secondi forza forza perché stiamo incitando a questo nessuno prende esempio da queste cose per l'amore del cielo saremo vedere adesso quale sarà l'ultima scelta sarà un clad per far correre tutti più velocemente bellissimo comunque chiudo la parentesi dicendo parla per te maledetto karen che non è che non hai mai visto questa sona taric io mi sono assorbito tutto uno spring split sì devo dire che io devo devo comunque farti lode al coraggio perché ricordo bene ero a londra stavo festeggiando il decimo compleanno di league of legends e ti stavo guardando dal mega resort del hard rock hotel di londra mentre tu stavi castando sona taric contro senna tam kensh mi sembra cinque volte di fila non mi ricordo comunque sia stato qualcosa tipo la bottom lane più passiva mai esistita nella storia ed era qualcosa di spaventoso assolutamente spaventoso di vido maledetto questi politono ci vogliono far divertire e quindi quale migliore esempio di grafica particellare e di avventatezza se non un kled che chiama la ribalta quelli che sono una mandra di support che non dovrebbero potrebbero anche non andare full support completamente dando anche un pizzico di danno in più per poi lasciare avvena l'onere e il piacere di massacrare e di essere immortale bene consideriamo che comunque kled ha un ruolo molto particolare perché tra i vari bruiser kled è uno di quelli che ha una delle funzioni più forte da abilitatore per il proprio team la composizione per il resto è una composizione che vuole giocare molto front to back tu hai sona taric hai ivern all'interno della tua composizione che comunque è una buona fonte di ingaggio non voglio sottovalutare la sua capacità di ingaggiare sugli avversari grazie al cattura dice ma il punto è che con questa composizione ti mancava quel quid che ti permettesse di forzare un ingaggio se gli avversari stanno a distanza schivani cattura dice o flash e ulti con sona per forzare l'ingaggio oppure ti mancava quella marcia in più kled è esattamente quella marcia in più kled va a velocizzare tutti arriva la sua carica e all'improvviso ti vedi un team di supporti incacchiatissimi che portano una vain in spalla mentre vain diventa una mitragliatrice che spara dardi d'argento e maleducazione quindi è proprio un bel film dei mercenari non so sì 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 con esplosioni mentre se ne vanno mentre esplode una un intero stabile colora le spalle sarà interessante anche vedere a che velocità riuscirà ad arrivare gianna con la sua abilità di movimento passiva maggiorata il potenziamento anche da parte di sona e la carica di kled è la cosa più importante deve essere tranquilla deve essere attenta perché si potrebbe trovare in faccia i nemici senza accorgersi specialmente perché non c'è una gianna in partita e questo effettivamente è vero hanno preso sona hai ragione perdono che ho messo dentro tutto era solo un over quindi era un over ma non so perché l'ho messo in serietà ormai per te l'avevano locata e quindi la volete gianna top me l'hai rimembrata mi piace gianna top però sì comunque in ogni caso è molto veloce questa composizione beh vorrei vedere come se la caverà sono taric in questa baccia perché non è qualcosa che dovrebbe funzionare ok sono taric davvero un antico fausto del meta è qualcosa che aveva inizialmente meravigliato per poi annoiare i popoli è stata nerfata è stata nerfata parecchio sono specialmente la sua capacità offensiva in fase di corsia i suoi costi in mana la tutto del funzionamento di sona purtroppo è cambiato ma sto un attimo ragionamento ragionando sui vari cambiamenti di bilanciamento che i campioni hanno subito ed effettivamente una delle cose che ha portato sona paradossalmente a poter di nuovo giocare contro contro sona contro scusami sona con taric era il periodo in cui nella 10.4 o 10.3 era la paccia sto cercando veramente di ricostruire il puzzle sono era andata in corsia superiore perché in quel periodo i nerf sono da corsia superiore hanno buffato le interazioni di sona con un alleato per cercare di ricostringerla al ruolo di support quindi effettivamente i costi in mana che inizialmente erano stati semplicemente nerfati per la sona da duo lane sono stati poi rimodificati e hanno subito un buff per la sona da duo lane perché come funziona adesso le abilità di sona costano di più ma il costo viene ridotto se vai ad applicare laura su un alleato e la riduzione costo è più alta dell'ampliamento del costo di conseguenza quindi sona taric con i cambiamenti forzati da wunder e da tutti quelli che insieme a lui giocavano sono top potrebbe tornare a funzionare questo è vero c'è anche da dire che comunque tra i maggiori nerf che sona accusato e non direttamente ovviamente l'assenza della cleptomanzia è stata quella più un po impedente su quella composizione che vedeva comunque sona ricavare piano piano minuziosamente anche perché comunque con alcune suabilità riusciva comunque essere un po aggressiva se quando poteva era comunque un buon modo per rigenerare salute rigenerare mana ottenere qualche sacca di gold è un po è un po di quelle cose che hanno fatto di esistere poi con gli ulteriori nerf direttamente su sona una composizione del genere per fortuna ma ora è tornata quindi vedremo come politono sapranno giocare perché la do bot è passato poi sordina nella 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 partita precedente ma non per questo poi si è vista esplodere per l'appunto con un trash che ha rommato fino alla fine col fatto che anche ezzeral potesse fare un po il bello del cattivo tempo sulla composizione nemica beh comunque era un ezzeral che aveva raggiunto uno spike molto importante quello al secondo oggetto e il secondo oggetto era stato anche potenziato da horn quindi erano comunque delle funzioni totalmente diverse da parte di quella bottom lane inoltre ezzeral è stato capace di fare quel danno perché aveva un buon pilota dietro burger flipper è stato in grado di giocare un ezzeral iper aggressivo e questo vedremo sì vedremo come se la caverà con qualcosa di diverso signori siamo finalmente lì su una terra la banda di evocatori per quello che è match point per il politonno contro gli albicocca eccoci qui ladies and gentlemen abbiamo albicocca di nuovo dal lato blu versus politonno dal lato rosso vi ricordiamo 1 a 0 per il politonno mano agli hashtag hashtag quack se pensate che albicocca possa vincere la prima serie da svantaggio la prima partita da svantaggio all'interno di questa amazon university sports oppure hashtag tonno se pensate che il politonno possa portare a casa il 2 a 0 è una situazione molto molto probabile per politonno vedremo però l'albicocca con una composizione che abbiamo ovviamente il politonno hanno hanno preso questa draft e hanno spostato i riflettori interamente su di loro per gli albicocca una draft anzi piuttosto metaderente molto metaderente qualcosa che potresti tranquillamente trovare adesso in competitivo nel sesso e negli si guarda io dato che abbiamo dato che abbiamo una composizione così particolare lancio anche un trend all'interno di questa partita mi piace volta che vain prenderà una kill io darò al pubblico una nuova ricetta che coinvolge tonno e albicocche quindi mi piace un singolo momento casterchef ma ad ogni kill di vain diamo al pubblico una nuova ricetta per sbizzarrirsi vedremo vedremo se ci dilizzeranno questi politonno per adesso ovviamente inizio molto tranquillo attenzione più che altro rilevante sulla corsia inferiore quindi è anche interessante perché tu giustamente hai usato un giusto termine in fase di selezione dei campioni la combinazione sono taric ormai si può dire per fortuna è un lontano ricordo un nefasto lontano ricordo e contro però a qualcosa di simile tra virgolette ma il remake del 2020 che è effettivamente senna e questo nautilus dove nautilus taric sono un po le front line addette al farming e poi viene abilitato per quanto riguarda senna con le sue anime e ben poco farming e sole invece con farming spietato da un certo momento in poi ottenendo il completamento dell'oggetto da supporto quindi è bello vedere questa cosa si è particolare perché comunque taric da farming taric potrà andare tranquillamente verso la maschera dell'abisso quindi avere un oggetto che gli permetta di ampliare i danni di zona e questo è molto interessante abbiamo parlato di senna come la nuova zona adesso sono e la nuova senna tra l'altro è una zona che va di raccolto scuro quindi una zona che va a compensare l'assenza di cleptomanzia con la possibilità di farmare danni invece che oggetti si è una è un'utilizzazione sicuramente diversa è un'interazione sicuramente diversa con senna che farma più le anime e sono che va a farmare un po' più quelle che sono gli oggetti vari anche perché comunque senna mantiene questa sua itemizzazione da letalità quindi qualcosa anche di molto economico che tutto sommato però si va anche a ben comporre contro la composizione dei politorno che vedono ben poche resistenze anzi quasi nulla se non in cled assolutamente nel frattempo continuano gli scambi su questa corsia inferiore questa tipica bizzarra ma divertentissima da vedere corsia inferiore comunque le guarigioni che sono taric potranno vantare in fase di corsia gli permetteranno di continuare a scambiare con senna nonostante la rassa dalla distanza congelano anche molto bene i membri del politorno riescono a piazzare quella linea senza far avanzare gli avversari facendo accumulare le proprie ondate cosa che gli permette anche di gestire al loro piacimento la priorità di corsia cosa che solitamente non vedevamo un consono taric è una cosa sicuramente differente per questo infatti l'ho voluto richiamare voluto chiamare remake se non addirittura quasi un reboot ma di quello poi parleremo successivamente delle differenze un'altra best of three è un remake come il remake di final fantasy 7 ne parlavamo prima cambia qualcosina cambia qualcosa però a conti fatti è molto bello corsia superiore vediamo bubone babà uno dei nomi più aggressivi dello scenario competitivo mondiale giocare una corsia molto prioritaria nei confronti di un clad che non ha tanto coraggio da potersi permettere uno scambio diretto e soprattutto non può esporsi alla possibilità di pausa no non puoi esporsi alla possibilità di facce sfasciate perché non è neanche la possibilità di smontare da scar per resettare il trade se set ti stornisce adesso rischi di morirci inoltre anche per anche perché se non non cogli le abilità di questo di questo clad sicuramente ti sarà anche più difficile rimontare su scar la stessa quindi devi giostarti bene anche quei piccoli spazi di call down questo però non è nota che il buon bubone babà si sta comportando sicuramente bene e a conti fatti se pensi nella scorsa partita salvo quell'uccisione in solitario proprio contro quell'horn si è poi comportato piuttosto bene nonostante lo svantaggio del proprio team nel frattempo dovremmo essere nuovamente in partita eccoci qua ti stavo dicendo una delle problematiche di cercare gli scambi con set quando sei smontato da scarla è che comunque clad di per sé è molto lento la sua velocità di movimento è data dall'avvicinarsi agli avversari è data dalla furia omicida che hai quando ti muovi verso i nemici quando cerchi di scappare dai nemici da smontato sei lentissimo set può connettere con i pugni nelle mani molto tranquillamente con la porzione di danno puro e basta un trade che sei morto molti sono gli equilibri anche il fatto che comunque vane sia in corsia centrale per quanto il tuo piano di gioco sia una protec di vane quello stile di gioco arriverà molto tardi cercano di sperdi il debole la convergenza purtroppo non coglie ma l'intenzione era ottima è successo qualcosa che non doveva succedere corsia inferiore senna addirittura con guarigione utilizzata come summoner spell a fronte di ustione e flash della corsia inferiore del politonno ne va a garantire comunque il primo sangue nelle mani di taric sei what considerando quello che stiamo vedendo sulla corsia inferiore è possibile che taric abbia last hit tato quella kill perché da parte di sonne era utilizzata l'ustione c'era tanto mana sprecato da parte di entrambi arriva la carica il livello 6 già utilizzato si corre mancato però la connessione faccia sfasciate rischia grosso clad ma i danni della wv riescono a dargli il favore l'arrivo comunque di ecco fa desistere le azioni peccato perché interazione con maxi ninian non ce n'è stata qui molto aggressivo vane arriva addirittura il potere senza limiti il flash risposta potrebbe arrivare la q finale ma non c'è lontano non c'è non c'è mana è nel range per un'ultima sfera oscura ma non c'era mana per andarla ad evocare di conseguenza rischio one winged cut si salva da un trade rischiosissimo sprecato il flash sprecata la barriera quella è una vein con pioggia di lame quindi una vein che avrebbe molto più voluto il trade breve e poi l'uscita dal trade stesso bene con pioggia di lame vuole mettere giù le stacche di dardi d'argento e andarsene quello è il suo pattern di trade invece va per un all in contro sindra da parte di sindra e tra l'altro già metà vita sì da parte di sindra devo dire che lo sfinimento è una scelta curiosa perché comunque non puoi ridurre il danno puro di vain e di conseguenza ricordiamo che qualsiasi fonte di riduzione danno non funziona sul danno puro quindi i dardi d'argento ti picchiano anche attraverso lo sfinimento forse qualcosa come una barriera o un bustione per cercare un all in e uccidere vain il più possibile sarebbe potuta essere più interessante sì diciamo che come come giustamente detto come composizione avversaria non si lega particolarmente soprattutto contro una vein questo sfinimento corsia superiore vediamo i due top player continuare a scambiare con set che si è potuto permettere un pit stop dalla sua lo scettro vampirico ecco in questo match up il la lama del re rovina farà tanto lavoro in più tanto lavoro in più di quanto ne ha fatto nella partita precedente sona si prende il potenziamento blu condiviso da parte di le maxinian era da tanto tempo che non vedevamo ivern si è ultime apparizioni veramente risalenti a la competizione ma qui trovano subito un primo ingaggio con taric i danni comunque nonostante tutto si iniziano a sentire questa è una cosa interessante perché per chi magari non se lo ricordasse ovviamente non parlo direttamente a carer ma un uso come trampolino per chi non se lo ricordasse una delle migliori come le prime interazioni le prime risposte che si potevano portare a questa sona taric erano essenzialmente corsie altrettanto aggressive qui parallelismo anche a quello che ha un sona nautilus un sona set quindi cercare aggressioni tramite una caitlin all'epoca anche xiaia quindi duo bot molto molto oppressive ti ricordi lux caitlin una delle corsie di risposta maggiore beh adesso invece ha una senna nautilus che vuole rimanere sul chi vala anche loro ingaggiano arriva la carica si lancia in avanti si arriverà il controllo su quest'ultimo un ottimo faccia sfasciata poi la power bomb per ridirezionarsi ma il faccio sfasciata non è più disponibile la grezza da vendere ormai adesso utilizzata seppur buona in limitare con la torre noi darà il beneficio della torre stessa scalzato da scarla poco interessa ormai l'uccisione è caduta nelle mani di questo scar di questo credo e vanno per il drago dall'altro lato della mappa sono è lì continua a curare vain che forse di uno scettro vampirico può tranquillamente stare in zona ed è sona chiudere sull'obiettivo hanno rischiato un pochettino c'è la senna dalla distanza con l'oscurità perforante che avrebbe potuto cercare il furto e niente da fare e adesso si riprende quella normale amministrazione col fatto che ovviamente ottenere comunque un'uccisione in duo bot con una sola taric non è propriamente quello che vorresti a meno che non sai ovviamente il proprio team beh sona in tutto questo si è presa la sua stack di raccolto scuro è felice così nero continua dalla distanza a poccare nautilus per lei l'oggetto da supporto le garantirà comunque oro extra sono tranquilli non hanno bisogno di prendere altre risorse da questa corsia tanto non è il loro lavoro vincere questa corsia non anzi parti già con il presupposto che dovresti almeno rilasciare qualcosa di avversari come le placche in questo caso ma unicamente perché erano tornati in base la pressione ogni volta che vediamo la corsia inferiore è totalmente lato politorno perché hanno la possibilità di scegliere e questo è il punto è vero l'università di torino il politecnico di torino si sta ogni volta lasciando da parte degli dei piccoli spazi per decidere non solo come giocare loro ma come forzare gli avversari a giocare c'è anche da dire che il pattern di trade di senna è anch'esso molto particolare nella sua identità di supporto tiratore particolare a sua volta ed è per questo che avevo fatto il remind proprio a le corsie così aggressive in risposta a sona sona se fai pochi danni ma qui c'è un hardcore fenomenale che va a connettere ma per poco e qui si parla di danni che vengono a mancare non riescono a connettere gli ultimi danni necessari per portare quel nautilus in fin di vita ma se non altro per guadagnarsi ancora una volta la summoner della guarigione così come anche quello del flash dello stesso nautilus ma il mana esiste e questo è qualcosa che attenzione però corsia superiore si ritorna con un clad adesso nuovamente assistito da daisy e lo stesso ivern un'ottima gestione dell'agro e questo permetterà a daisy stesso e quindi ivern di guadagnarne l'uccisione con una buona gestione dell'agro oh daisy oh daisy adesso si andrà ad immolare sotto la struttura il povero spirito silvestre del guardiano di quarzo cercheranno l'agri sulla sua venigliascia e lì è stato comunque spottato ma ha un bel po di coraggio potrebbe ritornare e infatti indietreggia bravo bravo così molto bravo si prende la stack di raccolto scuro e se ne va ancora una volta sfinimento e potere senza limiti ma questa volta i danni non ci sono poche le sfere lanciate su questa vein posso solo immaginare che vein abbia trovato la condanna su sindra ed è per questo che abbiamo trovata così vicina e in quel frangente arriva la suprema però qui arriva la suprema parti taric costretto a fuggire sotto stione avrà vita salva più quel tic di cura che tanto gli basta ma qui adesso con la w lontani però pochi minion non c'è la pressione necessaria ancora per permettere a questa saina di ottenere l'uccisione e adesso vediamo sono e taric con un quinto della propria barra degli hp con un decimo della propria barra del mana e comunque non vengono disturbati sotto a quella struttura questo è un errore da parte degli albicocca ecco ecco ha il suo rewind disponibile e quindi potresti tranquillamente cercare il dive non avevano mana per utilizzare nessuna abilità e non avevano supreme disponibili c'era un frangente per aggredirli non hai utilizzato quel frangente potresti pentirtene e adesso sulla torre ogni qualvolta che vengono a mancare se non altro su rotazione giocano molto bene almeno cercano di riequilibrare un po quello che è farming e quello che è una gold lead che con quelle tre uccisioni il primo drago il primo sangue e diverse placature si sta già portando in direzione totale del politorno va a prendere il potenziamento blu abbiamo burger flipper bot side cercava di disincentivare gli avversari dal continuare a prendere placature comunque tre sono state già conquistate sono deve andarsi a prendere quel buff ecco è già lì per cercare di intercettarla ma non insiste spottato dal santuario di giorgio e ormai notificate anche le placature che vengono a mancare delle torre tutto sommato un early game che ha dato sfoggi da alcune interessanti interazioni soprattutto in corsia superiore salvo quella solo kill in corsia inferiore e questo ovviamente porta ancora una volta ovvio occhio perché qui potrebbero chiudere si rischia grosso belli si trovano le tre c'è poco da fare un ottimo di sperdi il debole disponibile ormai utilizzato adesso dei si salva la situazione e adesso giustamente si porta in vantaggio con questa prima uccisione o avanti ancora ovviamente permette comunque set un certo reinserimento con la suprema ma ovviamente solo per guadagnare del tempo se trasporto di clad poco serve mentre in corsia inferiore chiudono facilmente un'uccisione ok nel frattempo riescono a trovare un'altra kill da parte di zona che si mangia pure una stack di raccolto scuro su nautilus hanno la suprema di taric breve volendo potrebbero niente scherzavo non serve neanche ok li stanno debolendo li stanno massacrando questa è violenza spicciola e questo adesso è particolare perché sei riuscito in pochissimo tempo a prendere una marea di risorse la tua vane ha preso due kill e questo si traduce in un primo mattone bot side da parte di zona taric che non aveva pressione inizialmente e prende addirittura un primo mattone vane con due kill dalla sua clad che ha continuato tranquillamente ad aggredire gli avversari tra l'altro avevamo anche promesso le sue avevamo promesso le ricette in base a vane poi daremo due ricette per adesso le abbiamo messe da parte le diamo tutte a fine partita con sindra che adesso farma tranquillamente su quella corsia centrale ma non ha molto da fare dalla sua già è una situazione complicata con un 7-0 parlavamo già di quelle più o meno 2000 unità di differenza in gold lead adesso il vantaggio si è ampliato enormemente vanno verso il drago molto tranquilli al momento dalla distanza vanno anche a zonare ivern che non può permettere senza i flash difensivo per lui potrebbero cercare un inserimento sullo stesso eco trovano comunque l'immobilizzamento è quello che potrebbe tranquillamente adorarsi adesso in un'uccisione facile per questa vane un drago per un'uccisione su vane è vane 3-0 quindi è una vane che adesso potrebbe tranquillamente snowballare vanno in corsia centrale bella l'evocazione del messaggero distante dalla torre così non andrà a sprecare la testata sulla torre esterna anzi vanno a prendere la torre comunque forti del terrore dei lice su zona che ottiene così anche una buona pressione strutturale utilizzano daisy per tankare la torre interna questo è potenzialmente un messaggero che potrebbe prendere tre strutture qualora non andassero a contestare possono tranquillamente farlo staremo a vedere adesso in tutto questo clad proxy farma impedendo a set quindi di muoversi dal sottostruttura e arriva la cavalleria ad aiutarlo in questo set poveretto in questo momento non sa dove deve neanche solo rifugiarsi e spreca in apertura i pugni nelle mani eh si qua è un problema si va comunque a riposizionare grazie alla popola suprema pugni nelle mani però non più disponibile la suprema di taric dà comunque dell'attempismo e qua si iniziano a intravedere già tutte le cure tutti gli scudi Sarah riuscirà comunque a trovare un'uccisione ma poco servirà la reazione comunque interna è arrivata e tanto gli vale tanto gli basta adesso però di nuovo nuovamente con Daisy cercano l'aggressione è arrivata anche Vayne i danni ci sono Kred sta tankando l'intankabile sotto questa torre nemica il teletrasporto darà comunque modo agli stessi team dell'albicocca di far desistere l'aggressione del politonno e vanno adesso a chiudere sulla corsia superiore con un'altra struttura della loro la quarta della partita una gold lead di già 7600 unità un 9 a 1 e un'altra partita che per il politonno si dichiara convincente situazione sempre più critica ormai siamo arrivati a una gold lead sempre più invadente con già diverse strutture ormai distrutte la stessa della seconda torre interna della corsia centrale dà un via libera totale al politonno politonno che adesso deve solo scegliere dove continuare a insistere il fatto che abbiano aperto tutta la corsia centrale grazie al messaggero il fatto che abbiano comunque pulito anche le side lane adesso dipende molto dagli obiettivi Barone arriva tra un minuto ma non è detto che avremo il Barone immediatamente aggredito da parte loro Vayne arco ricurvo come secondo oggetto significa Vayne con furia di Quinso penso che vogliano completare quella prima di aggredire il Barone e infatti vanno a premere bot side e cercheranno il Drago è una cosa che possono tranquillamente fare grazie anche al vantaggio se in quel teamfight precedente sono riusciti comunque ad averne ragione per quanto poi il trasporto abbia vanificato ulteriori intenzioni di aggressione il vantaggio è piuttosto evidente il fatto che comunque ci siano tre uccisioni su Vayne e tre anche su Sola perché comunque per quanto sia una protect di Vayne dobbiamo ricordarci che Sona una volta entrata operativa in funzione i suoi danni comunque arrivano e si sentono e non sono solo guarigioni hai il terrore dei Lich e hai sette stack sul tomo di Mejai quindi basta una Q da parte di Sona e smezzi il carry nemico al resto ci pensa Vayne e le mie prediction sul non aggredire subito il barone sembrano volere essere smentite dal politonno vediamo a vedere ora però Q Vayne facile l'ingresso sullo stesso eco rischio e grosso e comunque uno su prima si viene a mancare a discapito di una semplicemente una Q di Vayne questo ovviamente permette al politonno di andare direttamente sul barone e semplicemente adesso devono contestare ma non c'è visione grazie ai cespugli e lì Yasha TP un TP che si va quasi un po' a sprecare per quanto l'intenzione sia semplicemente quella di delimitare adesso con la Suprema si girano tutti quanti lasciando un po' il barone così a sé Nautilus è l'obiettivo prestabilito mentre intanto Daisy si tanca e mantiene l'aggro sullo stesso barone Suprema da partitari che per andare a salvaguardare lo stesso Kled riuscirà però nella magia Absolute V questo ecco cosa ha fatto ha negato il barone qui un po' di pecche lato politonno peccano di superbia e di capacità giocando fin troppo con il cibo con i nemici e con il barone questo li viene quindi a punire mentre Sona concluderà facilmente questa uccisione poi cercheranno un remind un rimando sullo stesso Nautilus ma l'inseguimento su Syndra è quello che ovviamente andrebbe un pochino più interessare per quanto tempisti che vengano tolte agli stessi albicocca alla fine è inevitabile prende un sacco di tempo si da tra un disperdi il debole e l'altro ma alla fine abbiamo anche la Stasi da parte sua un po' di spam di Emot ci muore anche lei e siamo sul 13 a 1 ecco ha fatto un bel miracolo per il proprio team perché fosse stato anche barone probabilmente avrebbero chiuso la propria partita però oh mio dio avevamo anche vantaggi in livelli da parte di Lemaxinian eppure si fa rubare il barone da parte di Ecco questo è un erroraccio è un mancare di rispetto agli avversari da parte del politonno ripeto un eccesso di superbia così potremmo chiamarla di sicurezza hanno giocato molto attorno a quella trama del barone e hanno giocato puramente per anche aggredire semplicemente i nemici farli desistere ancora di più terrorizzarli e questo però li ha penalizzati quindi molto bravi comunque quelli dell'Albicocca se non altro a interrompere questo dominio totale per almeno qualche minuto hai negato più che ottenuto il barone ovviamente sì corsia centrale continuano a premere comunque il fatto di aver avuto quella piccola battuta dal resto non sembra voler rallentare più di tanto il macro game del politonno quindi sono tranquilli così al momento vogliono semplicemente cercare di prendere risorse dalla loro i membri dell'Albicocca ma non è una draft facile da eseguire perché se ci pensi il DPS di questa composizione è davvero difficile da protrarre Senna falcione oscuro per lei non ha al momento oggetti che le permettono di avere un pancino di danno paragonabile a quello di Sona dall'altro lato e per Vayne vabbè DPS lì si parla di un tiratore quindi per lei basta continuare ad autoattaccare manca questo elemento lato Albicocca attenzione attenzione però un disperderebole che si va un po' a disperdere nel vuoto un gioco di parole involontario questo però permette un ringresso Capture Dix che purtroppo non va a segno c'è ancora una torre comunque a difendere la stessa torre che alla fine poi ha concluso tutta quell'aggressione con semplicemente due morti per testa in questo frangente c'è da dire che i politonno stanno rallentando enormemente comunque c'è da dire che hai un inibitore scoperto e su quello già di per sé è una pressione totale Haikled che sta premendo verso quell'inibitore e dovranno indietreggiare in qualche modo i membri dell'Albicocca devono cedere questo varrà poi il si lanciano proprio in avanti troverono facilmente il controllo su set quest'ultimo a cercare di produzione si è con la stessa Suprema riuscirà in qualche modo ma alla fine sarà Burger Flipper a ottenerne facilmente l'uccisione poi ancora si continua con una Vayne inarrestabile sotto continue cure e soprattutto Supreme ancora lo scudo addirittura da parte dello stesso più guarigione da parte della redenzione per dare ancora più manforte a questa doppia uccisione di Vayne inarrestabile immortale è anche un po' immorale e qui addirittura Suprema di Sona che va a connettere su due Nautilus Eco bloccati se lì sull'imitare per poco il Captur Anix non concludeva l'opera seppur Suprema ancora con il Rewind disponibile da parte dello stesso Eco ma i politono si avviano verso una fine inevitabile vanno a chiudere sugli inibitori ingresso metodico all'interno della base nemica aspetteranno le ondate di Minion non vogliono aggredire le strutture del Nexus con il trettico avversario IV presente indietreggiano lo stordimento per poco non connette aspettano l'ondata e poi con quella andranno a chiudere e invece no indietreggiano ok vogliono fare le cose con un certo disegno diciamo si metodici si sono resi conto che prima mancare di rispetto agli avversari li ha portati a perdere un barone non vogliono di certo fare lo stesso errore per due volte ci sta ci sta alla fine abbiamo Sona che chiude la staffa dell'Arcangelo 25 stack di Mejai Vayne che sta ancora aspettando il richiamo base con il quale andrà a chiudere la furia di Quinso e probabilmente metterà un MC spada on top anche se Vayne potrebbe anche prendere un mantello di Negatron e cercare una speranza perduta a questo punto giusto per evitare la possibilità di one shot da parte di Syndra o ecco adesso sarà molto molto importante comunque il fatto che abbiano già almeno un pizzico di resistenza in più rispetto a prima ma d'altro canto come giustamente tu hai stesso annunciato il fatto che ci sia comunque già una staffa dell'Arcangelo in procinto di essere completata molte delle power spike sono ormai un po' nell'intimizzazione qui addirittura ecco viene bloccato Supremo di Clyde che però verte ovviamente a chiudere la strada al tritico stesso questo ovviamente fa convergere l'intera composizione del politonno prima su Senna che implode immediatamente così come anche lo stesso ecco ancora prima che entrambi possono anche solultare quella superma di Senna che stava per tornare che purtroppo non riesce a connettere sullo stesso Nautilus si lanciano prima in avanti lo stunno da parte di Taric la risonanza cosmica un'altra faccia d'uccisione Vain è in fin di vita ma è ancora lì immortale uccisone dopo uccisone i politonno distruggono l'intero team dell'albicocchia adesso si avventano sulle ultime due strutture del Nexus ladies and gentlemen con un punteggio di 22 a 1 in 26 minuti e una gold lead di quasi 13.000 unità il politonno si porta sul 2 a 0 e anche oggi la tradizione è salva anche oggi abbiamo dei 2 a 0 a chiudere le singole partite è stata una partita bizzarra mi ha divertito non mi sarei aspettato di vedere una protect the vein comp da parte del politonno non adesso che poi per carità se c'è qualcuno all'interno di questo torneo che mi può giocare una protect the carry quello è il politonno è un'università al quale abbiamo già visto giocare questa composizione ce l'aspettavamo e quindi niente questo chiude la serie questo chiude anche la giornata di oggi pazzesco una partita davvero pazzesca una serie pazzesca molto più della prima che su qualche punto è stata anche combattuta qui i politonno hanno semplicemente ribadito il loro livello anche a tutti coloro che adesso dovranno andarle a fronteggiare nei quarti poi in semifinale coloro dovessero passare così come anche in finale perché sì vi ricordiamo che questi erano gli ottavi di finale come ieri adesso oggi vanno a concludersi quindi questa fase degli ottavi avremo nelle prossime giornate dell'Amazon University eSports come sempre vi ricordo alle 17 quelli che sono invece i quarti di finale ma per stasera da ID Noise da Kerry da PG Sports è tutto vi auguriamo una buona serata grazie a tutti